Stefano De Martino a che tempo che fa? Ho messo anche la giacca per te Anche la giacca Quando vengo da te metto anche la giacca Hai visto? Benvenuto Allora tu sarai su Rai 2 il giorno di Santo Stato Il 26 dicembre, cosa succede? Succede di tutto e di più Succede che praticamente io faccio un quasi one man show a teatro Sì, adesso parliamo perché adesso riprende il teatro Ho rubicchiato delle cose, le ho messe assieme Ho invitato tutti i miei amici Diciamo della televisione del teatro Li sparpaglio un po' e facciamo una festa in un giorno In cui di solito si digerisce Quindi mentre gli altri a casa digeriscono Però è il tuo giorno Perché per te poi l'onomastico Sì, diciamo che è stato un po' un alibi Quello del 26 dicembre Infatti sono diventato anche petulante sui social Perché faccio questo countdown a Natale a Santo Stefano Però mi fa piacere passare l'onomastico Che sai noi ci teniamo tanto E mi fa piacere passarlo in televisione Perché poi, secondo me, fare televisione durante le feste è ancora più bello Non so se per te... Tu vai in ferio durante le feste No, io devo dire, sto bene anche a guardarla A me piace invece essere in onda durante le feste Ma perché sei giovane Va bene, allora Quindi sarà in diretta? Sarà in diretta? No, sarà registrato pochissimo prima Perché così siamo caldi di vacanza Ah, ok, ok Quindi passeremo... Prima serata, cominciamo un po' prima alle 21, mi sa, quindi... Passeremo a Santo Stefano con te Assieme Tanto quella sera, vai, abbiamo fatto tutto Si è fatto, basta Eh, basta Senti, dicevo che la giornata è stata intensa anche per te, credo Ma non siamo dei marziani Non possiamo non affrontare il tema Nel senso che oggi Belen ha fatto un'intervista Diciamo molto ampia a Domenica Inn E dove, insomma, ha detto delle cose non propriamente, diciamo, gradevoli su di te È molto private e personali Ed è, credo, doveroso chiederti se vuoi replicare, dire qualcosa No, guarda, lasciami dire una cosa, Fabio Non è una replica la mia Vorrei solo dire che è una riflessione Nel senso che quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità No, ognuno ha la propria Ciascuno dei due ha la propria verità Poi c'è chi se la sente di renderla pubblica, di raccontarla E c'è chi invece se la tiene per sé Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità Semplicemente perché ho dei motivi, no? E due dei quali più importanti sono il bene che c'è stato E che c'è tuttora perché io le voglio sinceramente tanto bene ancora E il secondo, che è il più importante, che è quello che Belen è la madre di mio figlio Quindi per me è questa la cosa fondamentale Poi, prima ascoltando Ornella, no? Che raccontava ovviamente della sua vita Sentimentale Colorata Mi è venuta in mente una frase di Charlie Chaplin Proprio qui dentro, guardandola, no? Il modo in cui raccontava delle cose In cui sicuramente ci saranno state delle emozioni molto forti Charlie Chaplin diceva una frase meravigliosa Che era Life is a tragedy in a close up Quindi la vita è una tragedia in primo piano È una tragedia in primo piano È una commedia in a long shot È una commedia in piano lungo Si allarghi l'inquadratura La tragedia diventa una cosa Diciamo che io mi auguro che pian piano L'inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita Allora Ma detto questo Detto questo Andiamo avanti Torniamo a noi Torniamo a noi Perché ecco Il 6 dicembre Su Re 2 si concluderà la quarta edizione di Barstella La quarta ed ultima Come ultima? Sì perché io non sono affezionato alle lunghe serie Questo è un programma di Arboriana Memoria Noi già abbiamo fatto due serie in più rispetto al solito Perché Arbore sai Quelli della notte Tu sei un fan di Renzo Pazzesco Come te del resto Sì però la cosa strana tua è generazionale Perché io come dice c'ero Eh io proprio perché non c'ero Ho vissuto nell'eco di quella cosa Quando l'ho vista E poi diciamo che ha influenzato tantissimo il mio Quando l'ho fatto quelli della notte Tu avevi 4 anni Sì esatto E qui non ti puoi ricordare niente No però poi li ho rivisti Quando in un periodo di Insomma in cui non lavoravo Eh ancora così tanto in televisione Mi guardavo intorno e dicevo Qual è un programma che mi piacerebbe fare? Eh ovviamente cioè Quelli che mi piacevano Erano ovviamente non alla mia portata No nel senso che Eh erano già condotti magistralmente da altre persone Non pensavo di rimpiazzare qualcuno Però dicevo che cosa mi piacerebbe fare? Qual è il genere? Ecco quel genere lì Che lui giustamente dice Questo è il jazz televisivo Mi piaceva un sacco Perché come succede da te Come succede al tavolo Come succederà tra poco al tavolo Come succederà tra poco al tavolo Quella lingua lì Quella lingua lì L'ha inventata Renzo L'ha inventata Renzo Quindi noi abbiamo potuto solo studiare quella cosa Farla nostra Quindi l'ultima edizione è questa Fine? Basta Poi faremo altro Però mi piace l'idea di chiudere un cerchio Poi vediamo Poi tanto voglio dire Le idee non mancano Senti tu sei Lo sai che te lo dico anche in privato Anzi adesso io ti ringrazio pubblicamente Perché quest'uomo qua Cosa ho fatto? Ogni volta che fa Un apprezzamento nei miei confronti Un complimento Adesso all'Espresso ha detto Su chi punti? Ma è vero Perché secondo me Mette a repentaglio la sua credibilità In onore della nostra bella amicizia Adesso solo questo Perché io penso Mi hanno fatto una domanda Che chi non mi conosce giustamente Oppure chi Anzi Quelli che mi conoscono diranno No no Pazio è invecchiato Stai iniziando a perdere No il problema No è che il problema è che mi hanno fatto la domanda Che si fa ai vecchi Cioè quando sei vecchio ti chiedono Ma tu chi vedi? Ma scusami Tu mi hai lasciato da solo Noi eravamo i giovani della Rai Tu adesso mi hai lasciato da solo Sì ti ho lasciato da solo Sì ma insomma È come se mi hai lasciato Sì È come ma non è uguale Noi eravamo i giovani della Rai Gli under 60 Fabio 59 anni che giovane Ma sei under 60 come me Tutti gli altri Amadeus 62 Carlo Conti Tu ne hai 31 Quei 34 Ma lascia fare Tanto la Sapete qual è il problema? Che a me Mi diranno Giovane conduttore Per un altro Sì ma a 60 anni sei giovane conduttore Perché? Tutto lo sei mai chiesto Perché chi ce lo dice è più vecchio di noi Di solito Ma c'è una persona in particolare Che è il colpevole di questa cosa Chi è? Chi è questo? Gianni Morandi L'eterno ragazzo Hai ragione Signori Io ci ho proprio perso le nottate Gianni Morandi A 78 anni adesso Sì Fa la mezza maratona In un'ora e 50 Io a 78 anni Mi immagino a casa Davanti alla televisione A guardare in tv Gianni Morandi Che fa la maratona Perché lui Ciao Gianni Salutiamo Gianni Morandi No però Per chiudere Ti giuro No E quindi I parametri di gioventù Sono cambiati Sono tutti sballati Capito? Su Gianni Morandi Si non vale Però è vero Insinna adesso Quando sei andato via tu Gira col gibbozzo di pelle Non è che sono proprio andato via Cioè Non è con Stefano Dai Te ne sei voluto andare Te ne sei voluto andare Te ne sei voluto andare E mi hanno fermato Hanno cercato di fermarmi In tutti i modi Telefonate E non ci sei riuscito Tu telefonate Ma no Niente Ma perché lui È testato Quando si mette in testa una cosa E io sono così Ha detto guarda Io ormai ho deciso A un certo punto Sì Lasciami Beh ci mancherebbe Senti No ma La domanda che mi hanno fatto È vero Perché io credo che tu sia Un grandissimo Ma si può scherzare su sta cosa Cioè io che lavorerai Posso fare Posso scherzare Secondo me no Ma ormai l'hai fatto Cavoli tuoi Poi semmai vieni qua Senti Direttore Direttore Quale Quale stai pensare Direttori Quali Direttori si scherzi Ma di che Quali direttori stai pensare Guarda Io ho il mutuo Sì ma A quali direttori Ti stai rivolgendo A tutti Ma di quale rete Di tutte le rete Sì sì lo so Una dirigenza Diciamo come dire Sì Mi viene in mente Fluida però Forse non calza Ma può calzare Può funzionare Però io quello che Stavo cercando di dirti Per salvarti Ti cacceranno anche Ti sto salvando Se ci riesco È che la domanda è Chi è che vedi Mi hanno chiesto È vero Beatrice Dondi mi ha chiesto Chi è che vedi come talento Io ho detto Stefano De Martino Perché secondo me è vero Tu sei uno showman Perché comunque Hai la fortuna di essere bello E quello non è colpa tua Ne merito tu Quello non è un merito Però sai ballare Sai ballare Sai cantare Hai studiato tantissimo Lo spettacolo La televisione Ti prepari I lavori Guarda che È una cosa che ormai Non fa più nessuno E poi fai programmi artigianali Cioè ti costruisci il programma Quello sì Che è una roba da vecchia scuola Analogici Artigianali Perché credo Fermate Sei analogico Che la televisione Sei vecchio Sono vecchio Vecchio E tra poco anche fuori E credo che la televisione Sopravvivrà Se manterrà questa artigianalità Perché tutto Allora amico Mi hai sbagliato Ciao Ti devo una brutta notizia È finita Sì sì È finita No no Invece secondo me Con tutto questo digitale Io una delle parole Che voglio di più È virtuale È finita Con tutto questo virtuale Secondo me Ritorneremo ad attaccarci All'artigianalità Però questa è una speranza Bisogna trovare Te la dico così Bisogna trovare Piccole botteghe artigiane Piccole botteghe artigiane Piccole botteghe artigiane Piccole? Botteghe artigiane Se vuoi te lo dico nove volte No no assolutamente Voglio dire che il 21 e il 22 dicembre riparte da Bologna la tournée dello spettacolo di Stefano De Martino meglio stasera Meglio stasera Quasi one man show Quasi Quello che ti vede protagonista Ed è uno spettacolo unico nel suo genere Sembra la disperata erotica band Perché non ci sono sold out Cioè di solito uno viene e dice Eh purtroppo Quindi di solito no Si arriva e si dice Tutto sold out Signori siamo pieni di biglietti Non potete immaginare Mi hanno mandato qua a posta Hanno detto guarda Ci hai fatto spendere una caterba di soldi Perché in scena con me ci sono Otto musicisti Eh sì Quattro danzatori Più me e tutte le persone che girano attorno E tu cosa fai? Racconti la tua storia? Io racconto la mia storia La faccio in maniera creativa Canti? Canto, ballo Sudo tantissimo E diciamo che Provo a restituire dal vivo Quello che poi L'affetto che a noi ci arriva Mi pare che tu abbia scoperto Che il tuo elemento naturale è il teatro Il palcoscenico mi piace un sacco Perché ogni sera succede una cosa diversa Certo E poi Questa è una cosa Che è un po' di pigrizia anche Perché è una cosa meravigliosa Voi dovete sapere Dovete mentalizzarvi in questa cosa Noi ogni sera Quando si va in onda Dobbiamo costruire una puntata diversa Per un pubblico che è sempre uguale Certo Invece il teatro è meraviglioso Perché tu ogni sera fai la stessa cosa Davanti a un pubblico diverso E quindi Io dico meglio stasera Perché ogni sera è un po' meglio Infatti Quando lo dico Tutti vogliono venire all'ultima Però no Assicuro che anche il processo è carino E niente Si perfeziona il linguaggio Si diverte Allora facciamo una cosa Stefano Diamo le date Le date Allora 21 e 22 Bologna Bologna Lì ci sono ancora biglietti? Vabbè A Bologna ancora Ma ragazzi Ma allora Io proprio odio la parola sold out Tant'è che una poltrona La compro a nome mio Sempre In tutte le date Perché non Se serve Abbiamo fatto sold out No 5 gennaio sarei a Montecatini Si Il 6 e il 7 a Firenze L'11 e il 13 gennaio a Torino Segnate 14 e 15 gennaio a Vighizzolo di Cantù 2 e 3 febbraio a Varese 5 e 6 febbraio a Genova 8 e 11 febbraio a Milano Al Lirico Al Lirico vi aspetto qua a Milano 14 febbraio a Padova 15 e 16 a Legnano 21 a Ferrara Poi Mantova Brescia San Severo Brindisi Taranto Cosenza Roma E Napoli E sai tutte? Perché me le hai fatto leggere? Sono scritte alle due spalle Va bene Stefano De Martino Rimane con noi al tavolo Grazie mille